Benvenuti nel canale Fabio Picce. Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano e leader di Forza Italia, è scomparso all'età di 86 anni a causa di una battaglia contro la leucemia. Secondo fonti ospedaliere, la sua morte non è stata causata né dalla polmonite che aveva affrontato durante i 45 giorni di ricovero, né dall'insufficienza renale che aveva suscitato preoccupazione nel suo precedente ricovero. Durante l'ultimo periodo di degenza, Berlusconi ha continuato a lavorare, alla riorganizzazione del suo partito politico. Sabato sera, nella sua stanza presso l'ospedale San Raffaele di Milano, a seguito, con interesse la finale di Champions League tra l'Inter e il Manchester City. Il suo ricovero sembrava procedere senza complicazioni, fino a quando si è verificato un improvviso tracollo nella notte tra domenica e lunedì, che ha portato alla sua tragica scomparsa. Berlusconi è stata una figura politica influente e controversa in Italia, con una carriera che ha attraversato decenni. Il suo passaggio è stato salutato da molti, con tristezza e ha suscitato riflessioni sulla sua eredità politica. La sua morte rappresenta la fine di un'era nella politica italiana e lascia un vuoto nel panorama politico nazionale. Berlusconi sarà ricordato per il suo carisma e la sua abilità nel costruire un vasto seguito politico. Nonché per le numerose controversie che hanno segnato la sua carriera. Ora, l'Italia si prepara a dire addio a uno dei suoi protagonisti più carismatici e discussi. Mentre il paese riflette sul futuro politico senza Silvio Berlusconi.